E' morto in sella la propria moto e la sua passione più grande. L'incidente costato la vita al 25enne triestino Marco D. Terlizzi è avvenuto lunedì scorso contro un mezzo pesante in Slovenia, nel paese di Smarie, Santa Maria in Monte, nel comune di Capodistria. Stando le prime ricostruzioni della polizia d'oltreconfine, pare che il giovane centauro a bordo della propria onda abbia sorpassato una colonna di veicoli andando a scontrarsi con un camion che procedeva nel senso di marcia opposto. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime. Di Terlizzi è stato trasportato d'urgenza direttamente all'ospedale di Catinara, dove purtroppo si è spento poco più tardi. Posto che le dinamiche e le conseguenze del sinistro sono al vaglio della magistratura slovena, si apprende che il conducente del camion, un 47enne che non ha subito conseguenze, aveva un tasso alcolemico superiore al limite di legge. Tante le manifestazioni di affetto al ragazzo, soprattutto via social network, a partire dai tanti amici dell'Iceo Petrarca, che aveva frequentato in passato, ma anche dal mondo degli acconciatori, professione amatissima da Marco, che aveva frequentato anche l'Accademia Nazionale. Ma, come detto, la sua grande passione era quella per il motociclismo, tanto da dedicare le due ruote, proprio la definizione di se stesso su Facebook. Sono un pazzo, si legge, ma un pazzo buono, gas a martello e casco in testa, sempre ben allacciato. La celebre citazione del centauro, però, questa volta lascia in eredità solo tanta amarezza.